Un saluto a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove verranno trattate le tracce del concorso STEM A020 fisica che credo sia stato tra l'altro il primo concorso di tutti gli STEM a essere stato effettuato e vedremo insomma la proposta di soluzione in merito alla traccia uscita e anche magari qualche approfondimento utile per la preparazione al prossimo concorso tra l'altro il prossimo concorso STEM sembra essere ormai alle porte se ancora non l'avete fatto vi invito a iscrivervi qui sotto al canale per rimanere sempre aggiornati e ditemi sempre che ne pensate qui sotto al video nei commenti ovviamente in descrizione al video lascerò anche qualche gruppo whatsapp che potrebbe essere di vostro interesse e qualche altro link che potrebbe essere di supporto al vostro studio leggiamo la traccia, una fornitura di bulloni metallici da 10 cm viene analizzata con accuratezza e si trova che la loro lunghezza presenta una distribuzione normale gaussiana con media di 100.5 mm e sigma uguale a 0.5 mm se possono essere utilizzati solo i bulloni non più lunghi di 100 mm quanti se ne trovano a scartare? ok, vi mostro una distribuzione normale gaussiana in relazione al sigma vediamo che più o meno sigma copre il 68,27% immaginiamo che abbiamo la media proprio a 100.5 e sigma che è più o meno 100.5 quindi avremo che qui abbiamo il nostro meno sigma qui abbiamo 100, qui abbiamo il più sigma e qui avremo 101 e noi vogliamo utilizzare solo i bulloni non più lunghi di 100 quindi ci rimane questa percentuale qui allora noi sappiamo che il più o meno sigma copre il 68,27% questo è meno sigma questo è più sigma e abbiamo il 68,27% della popolazione a questo punto ci interessa solo questa parte in nero che è 100% meno il 68,27% che è il meno 2 sigma meno sigma più sigma poi non vogliamo quelli maggiori di 101 ma vogliamo solo quelli minori di 100 quindi dobbiamo dividere tutto per 2 quindi 100 meno 68,32 diviso 2,16% allora solo il circa il 16% andranno bene e circa l'84% andranno scartati ovviamente questa è solo un'ipotesi perché un'azienda in questa maniera non riuscirebbe mai a lavorare vediamo le varie risposte cancello un pochettino di disegni e infatti dice quanti ne dovranno essere scartati e la risposta è circa l'85% mi avete chiesto anche dato che purtroppo queste prove sono state estremamente difficili io ovviamente posso dare un valore di difficoltà da 0 a 10 però che è mio soggettivo anche all'ordine di studi che ho fatto per me questa domanda è molto semplice cioè io avrei risposto molto semplicemente poi ovviamente ho fatto anche qualche esempio di produzione a più o meno sigma solitamente le aziende internazionali operano a più o meno 3 sigma quindi si dice che lavorano in 6 sigma e quindi hanno scarti minore dello 0,3% in ogni caso se proprio devo dare un valore questo quesito mi sembra molto semplice per me, a me sembra molto semplice quindi diamoci un voto 5 proviamo a risolvere questa tra l'altro io sono in diretta vorrei anche non riuscire a risolvere e spero mi comprendiate due atomi di ossigeno possono combinarsi a formare una molecola O2 infatti sono due gli atomi di ossigeno liberando un'allergia di legame delta è possibile formare una molecola di O2 come risultato di un urto elastico tra due atomi di ossigeno? ma io a questo quesito avrei risposto così mai ovviamente perché in meccanica classica un urto elastico è un urto durante il quale vi è la conservazione del totale dell'energia meccanica e della quantità di moto quindi assolutamente se vi è la conservazione dell'energia non viene liberata nel sistema un'allergia perché tutta l'energia prima dell'urto e dopo l'urto cinetica viene conservata e quindi non può esserci un urto elastico tra due atomi di ossigeno al fine di formare una molecola di ossigeno 2 tra l'altro per quanto detto inizialmente proviamo a dare anche qualche definizione in più ovviamente in un urto elastico si conserva l'energia cinetica iniziale e quindi l'energia cinetica iniziale e finale sono pari e la quantità di moto Q iniziale è pari alla quantità di moto Q finale questo che cosa significa che un mezzo M1 V1 iniziale chiamiamolo con 0 con 0 e finale al quadrato più un mezzo M2 V2 iniziale al quadrato deve essere pari a un mezzo M1 V1 finale quadro più un mezzo M2 V2 finale quadro perché sto facendo questi passaggi perché ad esempio parliamo stiamo parlando insomma di urto elastico è una domanda che potrebbe uscire a mio avviso e si determini la velocità V2 finale e la velocità V1 finale dopo l'urto elastico in funzione degli altri parametri e allora proviamo anche a rispondere a questa domanda per allargare un po' le conoscenze perché ovviamente potrebbero essere una domanda del genere insomma potrebbe anche essere sulla conservazione di energia durante un urto potrebbe essere fatta ovviamente questa è la conservazione dell'energia cinetica la conservazione della quantità di moto M1 V1 0 più M2 V2 0 deve essere pari a M1 V1 finale più M2 V2 finale a questo punto possiamo cercare di raggruppare i termini in questa maniera M1 V1 iniziale quadro meno M1 V1 finale quadro deve essere pari a M2 V2 finale quadro meno M2 V2 iniziale quadro e essenzialmente ho semplificato tutti i termini un mezzo e li ho reaggruppati in questa maniera e alla seconda equazione la seconda equazione può essere riscritta come M1 V1 iniziale meno V1 finale uguale a M2 V2 finale qui vi è la parentesi scusate sto cercando di fare il prima possibile V2 iniziale ho messo in evidenza anche M1 M2 dividendo membro a membro si ottiene che V1 iniziale più V1 finale deve essere pari a V2 finale più V2 iniziale a questo punto bisogna risolvere mi serve un pochettino di spazio bisogna risolvere il sistema nel quale vado a riscrivere questa equazione quindi V1 0 più V1 finale deve essere pari a V2 finale più V2 0 con quest'altra equazione M1 V1 iniziale più M2 V2 iniziale deve essere uguale a M1 V1 finale più M2 V2 finale e da qui riesco a ricavare le velocità finali V1 finale V2 finale come detto all'inizio che sono pari linea di frazione divido la somma delle due masse M1 più M2 M1 più M2 e qui abbiamo M1 meno M2 che moltiplica V1 iniziale più 2 volte M2 V2 iniziale e V2 finale sarà pari a M2 meno M1 che moltiplica V2 iniziale più 2 volte M1 V1 iniziale ok questo risultato tenetelo bene a mente perché insomma a mio avviso potrebbe uscire nella prossima prova del concorso e niente passiamo a non ho detto la difficoltà boh anche questo non mi sembra estremamente questo esercizio non mi sembrava estremamente difficile do lo stesso voto ma mi aspetto di trovare esercizi difficilissimi in quanto A020 è stata tra le classi di concorso secondo me è stata una delle prove forse più difficili dell'intero concorso STEM allora un'astronave cade liberamente a motori spenti verso la Terra può un astronauta capire senza alcun contatto all'esterno se è attratto dalla Terra o sta navigando nello spazio in assenza spazio interstellare in assenza di gravità ok io ovviamente do la risposta come se non avessi letto qual è la risposta giusta allora io sinceramente questa domanda a mio avviso è un po' mi avrebbe mandato in difficoltà perché io sinceramente avrei risposto sì aspettando insomma cioè dopo un tempo delta T se si sta avvicinando la Terra aumenta la forza peso la forza G che è pari a K M la massa della Terra diviso la distanza al quadrato è ovvio che se la distanza diminuisce la distanza è inversamente proporzionale al quadrato rispetto alla forza peso e quindi in teoria dovrebbe vedere aumentato il peso la forza peso nell'immediato avrei detto sicuramente no perché ovviamente senza alcun contatto con l'esterno e senza insomma dispositivi elettronici non può capire se sta nello spazio interstellare in assenza di gravità quindi avrei detto no però sono sincero io qui avrei risposto sì perché se sta cadendo liberamente a motori spenti verso la Terra io mi immagino che questa distanza debba diminuire e mi immagino quindi che diminuisca la distanza al quadrato e aumenti la forza peso e all'aumentare della forza peso anche senza alcun contatto con l'esterno in teoria l'astronauta avrebbe dovuto accorgersi di avvicinarsi alla Terra questa l'avrei sbagliata e quindi posso dire che per me la difficoltà è 10 perché avrei proprio risposto male io avrei detto sì però sappiamo qual è la risposta giusta per me è un po' ambigua perché un astronauta può capire ma non dice in quanto tempo in quanto tempo può capirlo istantaneamente obiettivamente non c'è scritto il tempo quindi è pure probabile insomma che sia giusto così può capire e loro danno per implicito che può capire in un istante ok andiamo avanti si considerano le caratteristiche dell'immagine formata da uno specchio sferico convesso quale ad esempio una biglia metallica quale delle seguenti affermazioni è sempre corretta ok ho provato a disegnare uno specchio sferico convesso questa è l'immagine che riflette viene riflessa dallo specchio e poi viene riflessa con quest'angolo in funzione di quanto questa immagine risulta distante dalla retta passante per il fuoco nell'ottica ovviamente bisognava ricordarsi questo gli specchi sferici convessi forniscono sempre un'immagine virtuale dritta e rimpicciolita dell'oggetto sferico che si riflette in questo caso la distanza focale tra l'altro si considera negativa perché il fuoco è posto dietro lo specchio e quindi vale la seguente tra l'altro relazione che è uno su P dove P è la distanza dell'oggetto più uno su Q dove Q è la distanza dell'ommagine è uguale a uno su F e quindi abbiamo qui F minore di zero e quindi F minore di zero ovviamente per uno specchio convesso per uno oggetto concavo lo specchio avrebbe avuto una distanza focale positiva ovviamente la distanza dell'oggetto è positiva se l'oggetto è davanti allo specchio negativa se l'oggetto è dietro allo specchio la distanza dell'immagine è positiva se l'immagine è davanti allo specchio minore negativa se l'immagine è dietro allo specchio l'ingrandimento è maggiore di zero se l'immagine è dritta rispetto all'oggetto minore di zero se l'immagine è capovolta rispetto all'oggetto bene spero di essere di aver dato il mio contributo anche per questa classe di concorso vi auguro una buona prosecuzione di giornata un caro saluto da Francesco Samani